giorni eh dal punto di vista dell'esperienza di movimento che stiamo costruendo e delle vertenze che abbiamo in campo in campo nelle campagne nelle aree rurali di questo paese eh prima però eh una rispondendo alla sollecitazione di questa sezione di oggi pomeriggio che prova a fare un po' il punto su come le vertenze i movimenti possano in qualche modo intrecciare e incrociare un ragionamento sul sud prima però una brevissima notazione io quando sono andato qua ero molto scettico molto ma proprio molto 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 lo confesso non mi aspettavo granché mi ero interrogato se venire o non venire e poi siccome questa è una delle famiglie ormai siamo tutti un po' poligami no? In qualche maniera abbiamo diverse famiglie è una delle mie famiglie di elezione sono venuto a trovare i compagni a vedere come sta la mia famiglia di elezione devo dire me ne vado ehm sorpreso piacevolmente sorpreso di questo livello di discussione che c'è non perché voglio fare riferimento a questo a quel punto ma mi sembra un livello di discussione adeguato per fare cosa eh ho sentito ragionare Cinque Stelle io la dico solo in un modo c'è stata una fase in cui i movimenti tanti in questo paese hanno deciso di abdicare alla funzione della politica eh fonda dando in qualche modo mandato in quella fase al Movimento Cinque Stelle che si è giovato di questo passaggio non entro nel merito io credo che si sia chiusa quella fase e credo che adesso i movimenti le vertenze le istanze sociali debbano tornare a prendere a farsi direttamente politica in io non lo so se questo è il populismo o non lo è io so che ci serve una grande consonanza fra le azioni che facciamo tantissimi è una fase ricchissima dal punto di vista delle iniziative sociali in campo e la politica e noi abbiamo bisogno di rimettere in campo una vera azione di sapete cosa c'è in Sud America che forse noi non ancora abbiamo imparato a una pratica che si chiama pedagogia popolare pedagogia delle lotte e cioè il fatto che mentre le lotte le facciamo e costruiamo i processi e i progetti li sappiamo trasmettere costruire una relazione dinamica con il processo sociale che le acquisisce fuori da questo non c'è nulla nulla allora detto questo e ritrovandomi pienamente diciamo nella impianto che ha Paolo stamattina ci ha proposto vi offro diciamo la nostra esperienza il quadro della trasformazione una delle cose che che colgo piacevolmente è che qui si sta ragionando della trasformazione troppe volte ho partecipato a incontri negli anni scorsi sia online che che De Visu in cui eh si celebrava la purezza della nostra capacità eh di essere coerenti con la nostra storia il mondo è cambiato il capitalismo ha vinto lo stiamo dicendo tutti ha cambiato il campo di gioco ci ha scomposto e ha cambiato le regole se ehm io avevo paura di venire qui a dover ridire di nuovo una cosa del genere l'ho ascoltata nella stragrande maggioranza degli interventi guardate che osservata nelle campagne nelle aree rurali di questo paese come abbiamo fatto noi negli ultimi venticinque anni la trasformazione ve la dico in tre parole in tre parole in venticinque anni abbiamo perso la metà delle aziende produttive di questo paese la metà la metà eh in questo paese in venticinque anni si è trasformato da un venticinque trent'anni da un grande luogo di produzione del cibo a una grande piattaforma commerciale nel mezzo del Mediterraneo in cui produrre lavorare o che lo fai come perché sei un imprenditorio perché sei un bracciante non serve più a nulla perché in realtà i soldi del lago alimentare il business sta nella commercializzazione e il made in Italy che cos'è? E tutto tutto costruito è ormai una grande operazione commerciale in cui i grandi marchi della nostra tradizione storica sono diventati brand della speculazione commerciale nella pasta c'è il grano italiano lo sapete non c'è più il grano italiano ma la pasta è made in Italy nella mozzarella il rischio è che fra poco avremo uno stracchino fatto con il latte di bufala prodotto industrialmente ovunque eh convenga di più all'industria farlo potrei parlarvi dell'olio potrei parlarvi del vino potrei parlarvi dell'ortofrutta in questo passaggio di fase in cui il territorio non serve più le produzioni non servono più il cibo non è più quello della nostra storia ma ma tutto è merce e quel processo che dicevamo prima noi cosa eh che cosa eh che cosa altra è accaduto è accaduta una cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi secondo tutti i dati nei prossimi trent'anni la popolazione italiana si concentrerà per il settanta per cento nelle aree urbane e solo per il trenta per cento nelle aree rurali i territori rurali saranno un grande vuoto un grande spazio vuoto per farci cosa agribusiness agroenergie munnezza dappertutto un luogo dove fondamentalmente i cittadini andranno una volta ogni sei mesi pensando di incontrare magari il museo del territorio gli elefanti che volano e gli unicorni i lupi i cinghiali bellissimi tutte queste cose qua intanto la gente che ci sta nella merda e intanto perdiamo capacità in questo paese di avere una storia una relazione un'autonomia una sovranità che ci viene dalla relazione con il territorio questa è la nostra storia noi oggi stiamo abbiamo contrastato con mille vertenze in questi venticinque anni oggi c'è una che forse la più avanzata che abbiamo saputo costruire che è questa roba che vedete qui che è la battaglia che stiamo facendo per difendere un patrimonio il patrimonio bufalino dell'area casertana di che parliamo di un giro d'affari di un miliardo duecento e ottanta milioni sì parliamo di un territorio vocato che è una provincia che è quella casertana dove si fa il sessanta per cento del latte del di bufala per fare la mozzarella e di tre grandi nemici con cui gli allevatori di quel territorio devono fare i conti il primo il primo sono gli industriali del latte che hanno l'obiettivo di sfondare l'area DOP per produrre la mozzarella di bufala industrialmente ovunque convenga di più il secondo sono gli industriali della carne vi invito a andarvi a vedere le cose che stiamo denunciando pazzesco 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 padron cremonini si sta fottendo un intero patrimonio un pozzo di soldi grazie ai cadeau della politica il primo gliel'ha fatto uno che si chiamava pecora roscanio una i maggiori gliel'hanno fatti tutti quelli del centro-sinistra guardate non abbiate non abbiate dubbi su tutto questo eh eh non abbiate dubbi e il terzo è un apparato burocratico fatto di organizzazioni professionali col diretti CIA confagricoltura apparato istituto zooprofilattico meriterraneo ASL regione che sulla pelle di chi sta lavorando producendo distribuendo si stanno fottendo un pozzo di soldi un mare di denaro pubblico che invece di andare a tutelare questo nostro patrimonio in realtà lo stanno regalando definitivamente all'industria della speculazione allora noi che dobbiamo fare noi dobbiamo reagire vi dico proprio i titoli per chiudere in un minuto di questa di questo di questa cosa noi stiamo costruendo una grande vertenza in questo territorio partendo da quattro elementi di cui vi dico proprio i titoli che secondo me possono diventare una grande chiave per affrontare le cose primo l'avvertenza non può mai essere corporativa deve saper parlare degli interessi generati qui non c'è in ballo la diciamo lo scontro fra un interesse corto degli agricoltori e contro gli interessi di altri c'è lì quella l'avvertenza sta diventando l'avvertenza per difendere terra di lavoro per difendere quel territorio in particolare per affermare i principi generali secondo noi abbiamo saputo intercettare ci siamo riusciti forse siamo stati fortunati a intercettare i giovani allevatori di terza quarta generazione c'è un mondo fuori da noi voglio dirvelo c'è un mondo fuori da noi un mondo che non è ancora bruciato un mondo che non è ancora compromesso un mondo che non è ideologicamente preparato ma che che con la pedagogia della lotta può essere aiutato a crescere può ripensare la costruzione del proprio futuro il pezzo più avanzato di quella mobilitazione è fatto proprio dai giovani allevatori di terza quarta generazione che si tirano dietro il resto terzo abbiamo saputo siamo riusciti fortunatamente non so come a mettere insieme il pezzo di società e di impegno sociale in quel territorio che negli anni ha fatto la scelta di essere alternativo alla consociazione lì c'è gente che la battaglia contro la camorra la fa su serio lì c'è gente pezzi di sindacalismo e così via che si sono ritrovati questo mondo cosa ha fatto in chiusura e l'invito che io faccio a tutti ha si è posto il tema del potere del potere stamattina Paolo mi ha molto convinto perché lui ha ragionato del potere non solo del progetto e quindi che cosa abbiamo detto ma perché sono anni che questa roba non si risolve risposta perché è stata tenuta dentro un luogo vi risparmio il tecnicismo che si chiama tavolo verde cioè il luogo dove le istituzioni autistiche quelle che abbiamo tutte imparate a conoscere si scelgono gli interlocutori per farsi dire che va tutto bene no quindi si scelgono col diretti CIA con agricoltura copacri e tutto il resto e se li scelgono accuratamente per dire che va tutto bene quindi il primo obiettivo dell'avvertenza qual è stata l'autonomia l'autonomia dell'avvertenza non solo del progetto dell'avvertenza noi stiamo reggendo da un anno guardate è un anno di mobilitazioni centinaia di trattori nell'estate scioperi della fame inventando ora vedrete che sta per succedere da qui a dieci giorni ci inventiamo ancora altro tutto questo sulla base di una scelta noi ci auto rappresentiamo non c'è più la mediazione basta la esercitiamo direttamente ora una cosa di questo tipo è lo slogan finale funziona noi funziona se passiamo una fase nuova non basterà cara Adriana cari voi cari compagni tutti non basterà fare la non è un prodotto matematico non è la somma delle cose ci serve la politica ci serve perché non possiamo inventarci nel fare movimenti tutto il mondo in ogni vertenza in ogni vertenza deve essere leggibile il mondo ma non ci basta questa operazione abbiamo bisogno di una fase nuova in cui i movimenti assumono direttamente la direzione del processo politico di trasformazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti